Perché siamo stufe di ascoltare ogni giorno il bollettino di guerra, di quante cadono vittime di criminali senza scrupoli né coscienza. Basta con la violenza sulle donne! Un messaggio forte, chiaro, diretto, basta con la violenza sulle donne. Sì, un messaggio forte che si deve continuare a ripetere e deve entrare nelle menti di tutte le donne e di tutti gli uomini. E non dobbiamo mai stancarci di urlarlo. Basta, non ne possiamo più. È troppo scandaloso quello che succede. Per quante soffrono in silenzio, soffocate dalla paura e dall'indecisione di denunciare, la legalità sia per ognuno di noi la salvezza prima del dramma. Basta con la violenza sulle donne! Credo che sia la voce degli uomini ad essere debole. Io voglio fare un flash mob con tutti gli uomini. Voglio che gli uomini prendano posizione e che comincino a pensare di liberarsi anche loro da tanti stereotipi, da tanti pregiudizi. Perché anche loro sono vittime di una mentalità. Parte da loro, sicuramente anche dalle donne, ci siamo tutti, ma le donne diciamo che hanno acquisito più consapevolezza. Penso che tocchi agli uomini pure alzare la voce e dire basta. Basta la presa sulle donne! Grazie! 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 Grazie!